50 destra 3 chiude per sinistra 4 in destra 6 occhio gomme fredde 4 questo 6 dopo destra 5 in sinistra 6 dosso dritto in destra 5 diventa 6 50 sinistra 6 sfiora alla seconda e subito destra 3 chiude questa qua che arriva adesso 3 chiude per sinistra 6 taglia la seconda per destra 3 3 questa 50 50 alla ringhiera destra 4 in sinistra 5 4 in sinistra 5 taglia 5 questa taglia a destra 6 in sinistra 6 chiude taglia a destra 6 100 sfiora a sinistra 6 e taglia a destra 6 100 dosso 100 tornante sinistro la sua tieni ancora ok staccatona e siamo dentro vai sinistra in destra 5 sinistra in destra 5 ancora destra 5 dopo questa 100 questa 100 alla ringhiera sinistra 3 2 tempi alla ringhiera sinistra 3 3 3 2 tempi 50 destra 3 per sinistra 5 tonda destra 3 questa per sinistra 5 tonda 50 destra 4 meno 50 tornante destro destra 4 meno questa è la fettuccia 50 tornante destro ok arriviamo qua al tornante destro questo dosso in sinistra 5 taglia a destra 6 per sinistra 4 50 questa qua 4 taglia a destra 4 e sfiora a sinistra 5 taglia a destra 4 e sfiora a sinistra 5 taglia a destra 6 per tornante sinistro siamo qua al tornante sinistro adesso adesso tornante destro 50 sfiora a sinistra 6 50 e dopo c'è la destra 3 tonda la sua al muretto mi senti bene per sinistra 5 più questa qua 5 più e poi c'è un 100 vai 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 sfiora a sinistra 4 questa qua 4 per sinistra 6 4 questa per sinistra 6 per destra 6 due tempi questa qua e poi c'è un 100 e poi c'è un 100 lassù taglia a destra 5 meno questa qua 5 meno per sinistra 6 bravissimo sinistra 6 tiene giù che c'è un 100 dosso dosso sfiora a sinistra 4 e taglia a destra 4 dosso sfiora a sinistra 4 e taglia a destra 4 per sinistra 5 in destra 6 5 questa 6 dopo in sinistra 6 sfiora questa qua questa per destra 6 in sinistra per destra 3 più tonda laggiù in fondo 3 3 qua mi senti bene Elio? per destra 50 destra 6 100 occhio adesso sinistra 3 chiude chiude all'inizio e apre in fondo ecco chiude qua bravissimo taglia a destra 3 questa qua per sinistra e destra 4 in sinistra 5 questa destra 4 in sinistra 5 50 destra in sinistra 3 corta l'acceno destro e la sinistra 3 corta per sinistra destra e sinistra 5 poi c'è un destra 3 laggiù in fondo destra 3 tonda no taglio no taglio 50 sinistra 3 in destra 5 più questo qua è un 3 dopo c'è il 5 più per sinistra 3 più adesso 3 più e destra 6 e destra 6 per sinistra 3 questo 3 6 e il 3 questo qua 3 questa eh 100 sinistra in destra 6 100 sudosso sinistra in destra 6 100 sudosso in destra 3 più tonda arriva adesso 3 più tonda questa qua vai per sinistra 6 per attenzione al cartello sinistra 3 più tonda qua sinistra 3 più tonda 100 destra 6 50 poi c'è un destra 6 per tornante sinistro qua destra 6 per tornante sinistro tornante qua 100 al vuoto destra 4 chiude per sinistra 6 4 chiude per sinistra 7 chiude in fondo eh ok per sinistra 6 ancora sinistra 6 lunga per destra 5 poi abbiamo un 100 e il tornante destro 100 e tornante destro questo qua 50 sinistra 6 tieni tieni laggiù che c'è un 150 dritto perfettissimo la sua al buio c'è un sinistra 6 e subito sinistra 5 in ritarda tornante sinistro qua qua per sinistra 6 50 tornante destro adesso abbiamo il sinistra destra sinistra destra sinistra 6 meno ok e poi 100 destra 6 lunga quella che arriva adesso due tempi occhio che scompone tanto e poi arriviamo all'inversione è l'inversione sinistra vedete come farla allora sinistra 6 50 sinistra 6 50 e taglia sinistra 5 occhio bagnato 100 al vuoto ritarda destra 4 ricordati questa qua che è quella che ci preoccupa sempre in sinistra 6 100 al palo destra molto attenzione al palo chiude 2 destra al palo al secondo palo chiude 2 alla fettuccia per sinistra 5 50 50 sinistra 6 e ancora sinistra 6 questa qua ancora sinistra 5 attenzione taglio ancora sinistra 5 100 qua 100 sfiora sinistra 4 per destra 4 più quella lì che arriva destra 4 più per sinistra 4 più per destra 4 lunga lunga tonda questa qua ricordate che potrebbe essere viscita che andiamo lunghi adesso abbiamo sinistra e sinistra 3 no taglio no taglio questa qua per destra 6 50 sinistra 3 3 questa qua 3 occhio viscido destra 6 chiude 5 chiude 5 questa qua 6 chiude 5 in sinistra 4 subito sinistra 6 chiude 5 attenzione acqua 50 destra 3 2 tempi questa qua 3 3 3 2 tempi 50 taglia in sinistra 4 qua questa qua per destra 6 50 al rosso taglia sinistra 3 qua benissimo 100 no taglio 100 al rosso sinistra 5 meno poi di nuovo 100 qua al rosso 5 meno al rosso destra 3 più questa qua per al rosso destra intornante sinistro corto qua destra intornante sinistro corto merda è quello al nostro 100 a vista tornante destro 30 stai tranquillo sinistra 2 100 alla fettuccia sinistra destra 3 100 a vista destra sinistra 5 50 sinistra 6 molta attenzione tornante sinistro questo qua per tornante destro per sinistra 6 meno per destra e sinistra 6 nota attenzione destra 3 benissimo più per sinistra 2 2 questa occhio molto sporco occhio occhio molto sporco 100 destra 4 in sinistra 5 4 questa 5 dopo a rosso sinistra 2 laggiù in fondo sinistra 2 2 questa e subito sinistra intornante destro sinistra questa intornante destro per tornante sinistro questo intornante destro diventa pieno diventa pieno per sinistra 2 e subito tornante destro sinistra 2 qua 100 destra 6 qua dopo 100 destra 6 a rosso destra 4 meno 4 meno laggiù in fondo 100 100 destra 6 50 taglia sinistra 3 rotta taglia sinistra 3 questa 3 rotta per destra 6 chiude 5 e attenzione destra 3 6 chiude 5 attenzione destra 3 100 sinistra 6 50 ricordati laggiù destra taglia sinistra 6 questa qua 50 sfiora sinistra 4 in destra 6 lunga chiude 4 un po' dopo chiude 4 poi abbiamo ok per sinistra tornante destro questo qua sinistra tornante destro qua arriva 30 taglia sinistra 3 più per destra 5 più sinistra 3 questa qua 3 100 destra 3 tonda 3 questa qua poi di nuovo taglia sinistra 3 per destra 6 3 per destra 6 50 sinistra 6 chiude 4 questa qua 6 chiude 4 50 destra 5 taglia questa sinistra e destra 5 tonda in sinistra 6 ricorda 3 tempi questa qua 3 tempi per sinistra in tornante sinistro qua 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 sinistra accendo tornante appena dopo per per destra 6 chiude 3 chiude 3 giù in fondo eh qua per sinistra 6 per destra taglia in sinistra 5 50 sinistra 4 50 destra 3 quella che arriva e poi c'è un 100 questa qua 3 al cartello sinistra in destra 3 questa qua sinistra in destra 3 3 questa eh sfiora sinistra 5 chiude 4 5 chiude 4 30 al cartello sinistra in destra 6 meno per sinistra 6 questa in destra 4 più per sinistra in tornante destro ok qua sinistra in tornante destro non arriva a lungo assolutamente che perdiamo tempo 50 destra 3 per sinistra 3 apre 6 50 apre 6 eh qua 100 scusa 100 sfiora sinistra 6 per destra 5 sinistra destra e sinistra 6 chiude 4 quella laggiù eh questa qua chiude 4 in destra 3 3 3 3 3 3 3 in sinistra 4 30 sinistra 6 per destra in sinistra 5 occhio umido in destra 3 tonda molta attenzione destra 2 questa qua che arriva adesso 2 apre 6 intornante sinistro occhio viscido sinistra sinistra questa qua alla casa destra 6 meno laggiù 6 meno meno ricorda per sinistra in destra 3 sinistra in destra 3 3 subito dopo qua in sinistra 3 destra 3 per destra 3 chiude 2 qua chiude 2 intornante sinistro apre questo sinistro apre occhio alle gomme 50 sinistra 4 meno per destra 5 lunga lunga occhio umido fine 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 jolly ne abbiamo già giocati 1 2